giovanni sono gabriele il maestro buongiorno buongiorno hai fatto una cosa bellissima io guarda ieri ho visto il video di questi bambini che hanno rubato il vaso e sta mattina appena mi sono notato sono andato a prendere tre vasette e le ho portate hanno avuto un'idea sono responsabile di un'associazione noi siamo un crown di corsia purtroppo negli ultimi periodi non andiamo negli ospedali e ci muoviamo su qualche altra cosa e avevo pensato di fare se diciamo a fare una donazione noi come associazione a voi dei vatti come quelli che avete fatto voi per altri temi vatti con della tesla e delle gentile guarda che minetta a piangere adesso no 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 possiamo organizzare anche un servizio che veniamo noi crown a consegnare queste cose Giovanni sono aspetta un attimo perché mi devo riprendere un attimino perché è troppo bello quello che tu stai dicendo e quindi mi sono un po' commosso maestro siamo sul palermo today